è sempre bene portarsi una batteria solare no perché così posso caricare il telefono per la live sono vecchio beh no hai la mia stessa età quindi io sarei vecchia si scusa stai benissimo non mi piacciono sti capelli pazienza raga salutate gente della live che vi rivedrete anche su youtube ciao live ciao e siamo quasi a Gardaland sei giunto a destinazione grazie non siamo mai entrati da qua entravamo sempre da quel lato noi perché hai sbagliato solo un pezzo di strada però vabbè siamo arrivati buongiorno ciao ciao grazie prezzemolo prezzemolo la pizza con le fragole la carica ti dà il rumore è perché ho dovuto togliere la cintura perché sei corta a dare i soldi allo sportello perché sei corta perché ho le braccia corte è la prima volta in 3-4 anni che andiamo a Gardaland nei parchi divertimenti che arriviamo comunque prima dell'apertura ufficiale è la prima volta abbiamo scelto un bel giorno dai sì ma è pieno di gente felice ti ho portato a Gardaland un bacio con la maschera un bacio con la maschera amore mio bacio guarda come siamo tutti belli ordinati un due un due un due ma io non riesco ma perché tu hai le gambe corte devo saltare e poi mi dici perché vado veloce non è che vado veloce ho le gambe lunghe quindi sono una bugia più o meno perché ho le gambe corte ma che cappelli è bellissimo ah ma puoi fare il controllo per favore se sei più basso di 1,20 paghi di meno oh no superi il metro 50 oh no dobbiamo pagare il prezzo intero ora guarda quanta gente ed è quasi luglio ma non ancora è il 29 giugno no ci sono quelli che suonano dal vivo questa giostra è molto interessante la fila va molto veloce c'è anche una musica di sottofondo ciao ciao guarda siamo già qui al tuo posto preferito dai saluta Peppa ciao Peppa oh sembrate quasi amiche andiamo al blu tour nonno si sbrigaci corri uh corra aspetta ci sono le scalopole ti sto tenendo apposta il fantasy kingdom andiamoci non c'è nessuno e adesso no solo le 10 e 20 e un minuto allora io ora non so se bisogna prenotarsi sull'app o meno sul sito non c'era scritto ma sul video che ho visto si comunque c'è abbastanza gente forse perché è blu tornado però ciao amore ciao aiuta perché c'è una cacca sotto perché c'è una cacca sotto non c'è di sì alings oh 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 ah 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 I want to break free I want to break free Ciao Che bello il lago amo E ora basta è finito E niente è finita ora Siamo nel territorio messicano di Gardaland Ma Trump approva questo Face palm Guarda com'è antico questo posto E' tutto così magicamente bagnato e chiuso Guarda amo Ci deve essere qualcuno di molto felice lì Eh beh Padre Padre ho peccato Padre Sono io il padre Ho peccato Devo confessare i miei peccati 10 Ave Maria Un padre nostro Basta valido per un mese E devi soprattutto imparare ad accettare i tuoi nuovi capelli Perché sei bellissimo E non è vero che fai schifo E... Cosa tocca? Cosa tocca padre? Cosa tocca? Eh... L'abitudine Cosa tocca? Questa è stata la prima giosta che abbiamo dovuto attendere Che finissero di sanificare Però ci siamo prontati primi praticamente Si ho fatto così come su Ticket One Guarda è il momento di cambiare custodia Si Ma che culo Abbiamo un'intera cosa solo per noi Incredibile Agui Pietro È il suo compleanno E l'avrei detto solo 27 volte in boh 10 minuti di video Agui 28 volte Arrivo a sera che sono Ultracentenaria 3 Wow Uuuu Ma io dovrei andare lì così ci vedo Non puoi andare dove vuoi tanto gira sto coso amo Vedi? Adesso sono io di spalle Yeee Oh perché gira? È certo Yeee Ma toglila la maschina se andrà soli figa E' buio Chi mi è toccato? Chi è stato? Io no Chi è quell'urido strozzo che ha firmato la sua condanna a morte? Ci sono gli scheletri Siiii La luce L'albero Il giallo Secondo me tu ti prendi tutta l'acqua in culo No ti prego Yeee Le fontane giganti Siiii Guarda che ti entra l'acqua Yeee 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 Nooo Non voglio passare di lì Guarda qua Ma non è mai stata così mossa la questa zona incredibile Ficchiaaa Dai gira 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 Yeee Se la vecchi tutta Aaaaaaaaaaaaaa E' fregna Aaaaaaaaaa Aaaaaaa E' fregna Aaaaaaa E' fregna Aaaaaaa Aaaaaa Ciao elefante Ciao serpente Questa roba si era nella trazione di Tarzan una volta comunque gli hanno rubata Era nel coso del West Incredibilmente Aveva un tronco gigante Che ti faceva passare per queste zone qua Madonna è velocissimo Comunque Mi piace Alla rimboggio Ciao Ciao Batti 5 Comunque dura 3 minuti Dura un po' questa Sì questa qua erano in quello di Tarzan E qua c'era Tarzan C'è un video del 2001 in cui dico c'è un coccodrillo lì Oh no Il vortice Qua c'è un rigonfiamento per il telefono Fai gong Du gong I goccini I goccini Le gocciole pavesi E' già finito Però ti sei presa l'acqua No dai Ah puttana Sì amore I miei sono solo 3 No dopo le tazze E' bellissimo mangiare Mi inizia a fare sempre più caldo E' la prima volta che andiamo su questa Come ti sembra? Caldo Vediamo com'è per la prima volta questo Mi ha schiacciato la faccia Quest'anno sto riuscendo a prenderle tutte Ah un giro della morte c'è dai Ah ok Infatti mi ricordavo che c'era Io no perché c'era il visore Guarda il lago amo E non lo vedete sono da Stai per carino Sono rassa E' già finito E' già finito E' già finito E' già finito E' niente la stretta Aia la testa Aia la gamba Sono troppo grande questa roba Sono troppo grosso Con questa giostra Figa Ma è già finito Questa è bella Tu sei Aiuta E io Mi sto obbligando a fare la filonia Sei nel mio video Del tuo video Guarda che bello E' tutto così fresco Aia Aspetta vediamo se il telefono regge Dai Sì ma non è che devi buttare lì acqua Ma è resistente apposta Evviva la prima discesa Abbe 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 Mi vedo più Mi vedo più Ho il culo bagnato Guarda la fontana Ciao Enrico Enrico Che bello fresco Aspetta Aspetta che mi... L'acqua addosso Mi sono bagnato tutto Ah che bello Ne sto in petto a Cristo Guarda la natura che bella Che bella la natura E' proprio come i terre di Sicilia E' bella la natura Ciao Ciao Che bella la natura E' proprio come quando stavo Ai canna ruoli No Ah quindi stai dicendo che i terroni sono mongoli Stai dicendo questa eh Durante la storia Instagram Stai dicendo che tu sei Ah certo Stai dicendo che io che sono terrono sono mongolo Sì la salita grossa Siete pronti alla salita della vita? Eh? Io mi sto spaccando la schiena Aspetta Ciao Ciao Si prontamo Troppa acqua Troppa acqua Ciao amici Inizialmente hai descritto tutte le gioste di Garda Va veloce e poi si ferma Ehi è 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 Lento Ciao Lento Io seguo Tobì Braus Pusti evviva sono vecchio sabacus al collo lungo stiamo fuggendo da atlantide fuggiamo da atlantide e si è già bloccata la nostra fuga è finita basta ci hanno catturato è finita non so cosa sto filmando onestamente ti prendo anche a te che filmi di nascosto c'è un piccione amore piccione amore ciccione incredibilmente starei davanti non prendi così tanta acqua come credi chissà dai sono solo tipo spettinata minchia la grotta del mistero potrei aver perso il colore della titta della titta no vabbè non credo è tutto così freddamente misterioso e comunque mi sono aspettato bello guarda che bello oh metteranno la stessa canzone da 27 anni da quando hanno aperto atlantide però fa sempre effetto ma bella ma il signore là lo dobbiamo chiamare poseidone e tuno tutte e due è la stessa persona quindi poseidone guarda uno stargate guarda le fontane bello mi ci infilerei dei per questo momento mi infile io ci infilerei ma guarda che ci sono i piccioni dentro la bocca del pesce ma no sono stati mangiati o loro stanno mangiando lui dall'interno guarda com'è grosso l'uccello di poseidone hai creduto attacco on titta è come se ti trovassi uno grosso così che ti vuole mangiare si con il suo pene enorme in penzoloni vabbè è anche quello buongiorno salve basta si è fermato dai scendiamo che potenza di traino che cattiveria di traino eh ah che bell'aria ah che bello e la discesa no non ho ripreso yeeeh che spettacolo ci facciamo un altro quarto d'ora di fila un giro così magari su una barca fare l'aperitivo che figata buona guarda sei una persona che conosciamo amo mamma da le terre sperdute dimenticate di Dugongoland di Dugongoland di Dugongoland di Dugongoland è già finito basta eh sì eh sì di Dugongoland di Dugongoland di Dugongoland metti la spattaccia senti che merda ce n'è ancora una guarda che è in alto ah quella è la ruota panoramica sì la ruota panoramica sì cos'è se no è un disco panoramico vabbè ovviamente è certo ovvio no è fallese è talmente ovvio che è inutile ripeterlo no guarda dei container spacco la macchia almeno scendiamo porca puttata ti ammazzo probabilmente al giro di poco fa ho censurato una parola che ho detto ma io sono scoppiata a ridere non la finivo più volevo ucciderlo eccolo là volevo menarlo dio mio continuo a gridare santo cielo in modo strano sembrava assacanato non lo sopportavo più all'alba delle cosa delle quasi cinque delle quattro o delle cinque quattro e ventiselle quasi quattro e mezza abbiamo finito tutte le giostre belle di Gardaland ci rimane fantasy kingdom ma anche lì ci andiamo per dire quella degli egizi è chiusa vabbè però quelle non sono emozionantissime per dire ci sarei andato volentieri quindi facciamo il secondo giro delle cose belle ci stavo siamo a fantasy du gongoland vuoi fare il giro della fattoria ti sei fatta male le orecchie oh poverino per giustificare il fatto che hanno chiuso alcune cose il sotto della casa di prezzemolo l'hanno murato hanno chiuso con le assi di legno in quel punto lì vai talmente veloce che quel murales non lo guarda mai nessuno ma ci sono ancora i piccioni di stamattina perché hanno fatto lì la loro tana abiteranno lì tipo il loro nido pagheranno l'imu no non credo ero morto ma chi ce ne frega che bello si alza ma che bella quella luce bello grazie grazie anche a te abbiamo incontrato Sibel ciao ciao a me un video ciao ci vediamo su youtube perfetto e anche quest'anno forse è finito Gardaland perché forse magari a Dallu è venuto lì chi lo sa se non faranno il look a comics che è probabile volendo beh quasi sicuramente non lo faranno e poi magari se lo faranno noi non ci andremo grazie per la sua cosa di compleanno ma la sua presa già detta però carino grazie figurati e abbiamo incontrato anche Sibel Channel che era scottata come me e siete due mozzarella non so se la vedete ma sono rossa per forza siete due mozzarella anche in faccia guarda mozzarella io mi sono salvato con i miei pigmenti terroni e tre due uno fa caldo e con prezzemolo che l'ho dal sole io vi saluto ma non è un po' troppo piccolo per te sicuro vabbè stiamo andando che l'ho dal sole Grazie a tutti.